Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e siamo con una figura molto molto importante nel Veneto, anche una figura di tanta fortalezza, di tanta resilienza. Sami, poi faremo un'introduzione su di te, anche ti invitiamo al nostro programma di Radio Ernestina dalla fine del mondo, ma ora voglio approfittare che ti ho preso qua, che ora sei come me un collega Veneto Creators, e avremo questo compito di continuare a diffondere il bello del Veneto, ma anche all'estero, e approfittando vorrei chiederti un saluto per i nostri Veneti, Bellunesi, tanti anche italiani, all'estero che ci seguono su Ernestina dalla fine del mondo o anche sui miei profili. Possiamo dedicare un saluto? Certo, certo, vi saluto veramente col cuore, è un piacere essere qua con te, prima di tutto. Ah, anche per me, finalmente conoscerti di persona che fai tante cose, scrivi libri, un sacco che puoi raccontare in una puntata. Sì, volentieri, volentieri. E saluto tutta la comunità veneta in Argentina, anche quella italiana in generale, perché una parte della mia famiglia è lì, dunque vi sento particolarmente vicini. E in Argentina, se non sbaglio. In Argentina. Viene dalla fine del mondo come me, quindi Sami, grazie mille per i tuoi saluti, e beh, ti aspettiamo alla radio, dai. Grazie, grazie mille e... Alla prossima. Alla prossima. Grazie.